La decisione di settimana scorsa da parte dell'OPEC di ridurre la produzione del greggio di oltre 2 milioni di barilli al giorno è soltanto una delle pressioni che il mercato petrolifero potrà subire da qui fino ai prossimi mesi. Il suo impatto di fatto potrebbe essere sommerso da quelle che sono altre forze. Consideriamo anche che il taglio di fatto sarà in qualche modo diluito dal fatto che più di metà di questo è praticamente illusorio. Pensate che solo 8 dei membri dell'OPEC saranno realmente impattati dai nuovi obiettivi e pensate che due di questi sistematicamente non rispettano i patti. Pertanto principalmente l'onere ricadrà su Arabia Saudita, Emirati Arabi e Kuwait. Quindi di fatto se si atterranno ai nuovi obiettivi il taglio alla fine netto sarà di 800 mila barilli al giorno. Ma quali sono le altre forze che potrebbero mettere ulteriore pressione al mercato petrolifero? Di questo e molto altro parleremo dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi, sono Antonino e prima di cominciare con il contenuto del video ovviamente volevo chiedervi di mettere un like sotto questo video, commentarlo e anche iscrivervi al nostro canale così da restare aggiornati su tutti i contenuti futuri. Ma detto questo, dicevamo, quali sono i fattori che possono impattare ulteriormente sul mercato petrolifero? Bene, partiamo da un concetto, dall'economia allo stato attuale. La forza del dollaro statunitense, nonché la crescente prospettiva di una recessione possono invertire la rotta su quella che è al momento una crescente costante domanda globale di petrolio. Di fatto il taglio richiesto dall'Opico in questo momento potrebbe risultare più una sorta di cuscinetto rispetto a quelle che potrebbero essere eventualmente le perdite dei prossimi mesi più che una forma di sostegno e quindi di desiderio di incremento su quello che è il prezzo al momento del barile. Di base una cosa è certa, il taglio della produzione dell'Opico in questo momento è sicuramente una notizia negativa per chi sperava che l'inflazione statunitense, almeno quella, fosse in qualche modo al suo picco. Tale opinione si basava su un'ipotesi assolutamente ragionevole che sosteneva in qualche modo che il fatto di aver avuto una crescita annua l'anno scorso rispetto alle risorse energetiche avrebbe portato in qualche modo ad un calo su base annua, in qualche modo riequilibrando e bilanciando quello che accadeva negli altri settori. Prima dell'annuncio considerate che l'inflazione sui costi della benzina era già salita di oltre il 20% e immaginiamo ora ovviamente che possa crescere ulteriormente. Ma occhio per esempio a chi da questa situazione potrebbe ottenere dei grossi vantaggi. Per esempio vorrei parlarvi della più chiacchierata società di estrazione dei petrolio e gas degli ultimi mesi. Ovviamente parlo di Occidental Petroleum, famosa ovviamente da quando Berkshire Hathaway ha deciso di acquisirne il 20% del capitale sociale. Pensate che Occidental Petroleum lavora nel segmento upstream del settore energetico. Cosa significa? Significa che si occupa direttamente dell'estrazione della risorsa energetica, che sia petrolio o che sia gas. Cosa significa? Che è fortemente impattata dalla volatilità del prezzo sul greggio. Pensate che già negli ultimi mesi la società ha avuto degli importanti benefici rispetto ai propri bilanci. Considerate anche che un aumento del prezzo del barile ha un effetto leva operativa. Significa che i ricavi aumentano in maniera esponenziale rispetto al prezzo. Inoltre la società riesce a tradurre non solo i ricavi in modo esponenziale, ma riesce anche a tradurre un aumento del prezzo del petrolio in benefici rispetto a utile, margini in valore assoluto e flussi di cassanetti. Questo è dovuto all'ottima cash conversion. Considerate che l'ebid si assesta su circa il 60% dei ricavi. Con una generazione di flussi di cassa di circa 10 miliardi di dollari. Allora, il rischio finanziario per una compagnia del genere in questo momento è molto basso. Grazie soprattutto alla generazione e alla capacità di generazione di flussi di cassa attuale e una disponibilità di linee committed, ma non tirate, per quasi 4.5 miliardi di dollari. La valutazione con i multipli forward looking e con il metodo di discounted cash flow di fatto ci mostra delle importanti valutazioni ad oggi rispetto a quelli che possono essere i flussi futuri, al netto chiaramente di una recessione globale imponente. Nonché anche le preoccupazioni a livello di clima e quindi di politica ambientali. Prima di andare avanti ci tengo a precisare che le analisi che vi ho appena mostrato e descritto vengono da quello che è un nostro progetto su cui abbiamo lavorato per mesi e che oggi ho il piacere di annunciarvi. Questo progetto è nato in collaborazione con Renegade Insider Finanza che è una pagina che sicuramente conoscerete con oltre 50.000 follower tra l'altro fondata da una persona che è all'interno del settore dell'investment banking da oltre 10 anni. Insieme a lui quindi abbiamo creato My Finance Club. Trattasi di un portale rivolto ai nuovi investitori che sono alla ricerca in qualche modo di analisi rispetto ad azioni, analisi macro e settoriali, ETF, offerte e sconti in tutto quello che è il mondo legato agli investimenti. Il servizio sarà in abbonamento trimestrale o annuale ma vi spoilerò anche che cliccando e iscrivendosi dal link in basso potrete ottenere una prova gratuita di 7 giorni in modo tale da poter fare tutte le vostre analisi autonomamente con una piattaforma tutta nuova. Tornando a noi, tornando a quello che succede dopo la decisione dell'OPEC ecco parliamo anche di quello che succede negli altri paesi. Di fatto si crede anche che quella che è in questo momento la situazione della Cina possa avere un rimbalzo e si possa evidenziare in qualche modo un rimbalzo su quello che è la domanda di petrolio legato soprattutto all'allentamento delle misure Covid e soprattutto all'apertura del turismo all'interno del paese. Considerate anche che la Cina vive di grossi volumi di esportazione soprattutto nel periodo natalizio. E se da un lato l'allentamento delle restrizioni è sicuramente un aspetto positivo quello che può essere invece legato alle esportazioni del periodo di Natale potrebbe essere ancora non maturo in quanto chiaramente siamo troppo a ridosso del periodo pertanto si crede che le prospettive sulla Cina siano ancora un po' troppo ottimistiche a causa chiaramente principalmente del rallentamento dell'economia globale. Il petrolio ha mantenuto dei giorni di guadagno a seguito della decisione dell'OPEC poi ha avuto un crollo sul finire della settimana. Una delle cause principali è legata alla Russia in quanto ha avvertito che se ci dovesse essere un tetto sul prezzo del petrolio provvederebbe a un taglio ulteriore della produzione. Comunque il West Texas Intermediate in questo momento è quotato intorno ai 90 dollari dopo aver avuto un blackout fino agli 88 venerdì scorso. Di fatto un altro aspetto precisato dal governo russo è che questo tipo di decisione dipenderà anche da quelle che sono le sanzioni imposte dall'Unione Europea e che se non dovesse essere in grado di spedire per l'appunto le risorse su Cina e India con navi non russe potrebbe provvedere ad un ulteriore taglio della produzione. Di fatto consideriamo che in qualche modo la Russia non ha agito sul petrolio come ha fatto sul gas ma è probabile che con il vacillare di quello che è il conflitto Russia-Ucraina e su quella che è la preponderanza dell'esercito russo sull'esercito ucraino chiaramente potrebbe essere un'ulteriore arma per ristabilire gli equilibri all'interno del conflitto. Del canto suo dobbiamo dire anche che l'Arabia Saudita è disposta ad aiutare Vladimir Putin e a snobbare quindi dall'altro lato Joe Biden. Quindi il paese arabo ha in qualche modo scelto da che parte stare all'interno del conflitto energetico che si pone sempre più ostile. Questo accade nonostante le pressioni dei funzionari statunitensi su Riyadh e sugli altri membri dell'OPEC rispetto al taglio della produzione. Un ulteriore aspetto da considerare come ulteriore pressione per il mercato petrolifero è sicuramente quello che accade e che sta accadendo all'interno del processo di transizione energetica. Secondo una ricerca di Bloomberg NEF, gli investimenti in risorse rinnovabili devono quadruplicarsi entro i prossimi 10 anni per raggiungere l'obiettivo delle emissioni previste entro il 2050 e per limitare il riscaldamento globale a 1.5 gradi centigradi. Attualmente per ogni dollaro stimato circa 90 centesimi sono per l'appunto destinati al settore delle rinnovabili e questo ovviamente è un ulteriore spunto per capire che il mercato petrolifero è decisamente sotto pressione e la transizione energetica può creare ulteriori strascichi rispetto a questo conflitto energetico che noi stiamo vivendo in questo momento. E con questo io chiudo il mio video, fatemi sapere cosa ne pensate e quindi vi mando un saluto. Ciao!